Vediamo in questo video il caso dei gruppi sanguigni e del sistema A, B e 0. È un caso più complicato rispetto alla codominanza semplice che abbiamo visto nel video precedente del pelo roano, rosso, marrone e bianco, diciamo. È un caso in cui codominanza e recessività interagiscono, quindi non è semplicemente codominanza in questo caso. Prima di tutto vediamo che cosa sono i gruppi sanguigni. Allora, abbiamo diversi sistemi di gruppi sanguigni. Il più importante è il sistema AB0. In base a questo sistema abbiamo quattro gruppi sanguigni diversi, A, B, AB e 0. Ma i gruppi sanguigni sono un genotipo o un fenotipo? Questa è la risposta che uno si deve dare. I gruppi sanguigni sono il fenotipo, per cui dobbiamo determinare il fenotipo di quali genotipi. Cioè, che cosa rappresentano questi fenotipi? Rappresentano delle proteine che sono presenti sulla membrana dei globuli rossi. Possiamo avere delle proteine di tipo A, possiamo avere delle proteine di tipo B e possiamo avere delle proteine di tipo 0. Senza andare troppo in dettaglio, queste sono glicoproteine. Quindi abbiamo una glicoproteina A, una glicoproteina B e una glicoproteina 0, più corta, diciamo, in cui il gruppo di oligosaccaridi è più corto. Quindi sono alleli presenti sulla superficie della membrana dei globuli rossi, ma sono molto importanti. Il fenotipo A mostra sulla membrana del globulo rosso soltanto la proteina A dominante. Il fenotipo B mostra sulla membrana del globulo rosso la proteina B, oppure più che mostra, diciamo, viene riconosciuta la proteina B, vediamo un po' perché. Il fenotipo 0 mostra sulla membrana del globulo rosso invece la proteina 0, che invece rispetto alle altre due è un allele recessivo. Il fenotipo A B, allora, che cosa mostra sulla membrana del globulo rosso? Il fenotipo A B mostra contemporaneamente sia la proteina A sia la proteina B. Quindi la proteina A e la proteina B, in questo caso, sono codominanti. Ma cerchiamo di vedere il significato di quello che stiamo dicendo. Qui c'è scritto antigene A, antigene B. Mentre il fenotipo 0 non ha nessun antigene. Che cos'è un antigene? Allora, un antigene è una qualsiasi sequenza proteica, cricoproteica, glucidica, insomma, di qualsiasi macromolecola che possa sviluppare una risposta immunitaria, quindi che possa portare alla produzione di anticorpi. In effetti, nelle figure precedenti, abbiamo visto che associato al gruppo sanguigno, c'era anche un anticorpo, uno o più anticorpi. Quindi, chi è del gruppo A ha un sistema immunitario che è abituato a riconoscere sui suoi globuli rossi la proteina A, in quanto la produce. Per cui, se il suo sangue viene a contatto con globuli rossi di tipo B, lui riconosce questa proteina di tipo B come non sua e quindi produce anticorpi contro questa proteina B. Quindi, produce e attacca questi globuli rossi che hanno sulla sua membrana la proteina B con i suoi anticorpi. Viceversa, chi è del gruppo B ha prodotto sui suoi globuli rossi la proteina B, il suo sistema immunitario riconosce la proteina B come propria, quindi non produce anticorpi contro la B, ma se io gli do dei globuli rossi di tipo A, li attacca con i suoi anticorpi. Chi è del gruppo AB ha sui suoi globuli rossi sia la proteina A sia la proteina B, quindi per lui la proteina A e la proteina B non sono estranei, non sono degli aggressori, quindi non rappresentano qualcosa di pericoloso. Per cui, chi è del gruppo AB non ha anticorpi né contro la proteina A né contro la proteina B. Chi è invece del gruppo 0 ha un sistema immunitario che è abituato solo alla proteina 0, che è una proteina più corta che non stimola la risposta anticorpale. Per cui, se a un individuo del gruppo 0 gli do una sangue di gruppo A o sangue di gruppo B, o addirittura un sangue di gruppo AB, tutte queste proteine A e B vengono riconosciute come strane, e quindi lui di conseguenza produce anticorpi contro A, contro B e di conseguenza, ovviamente, anche contro il fenotipo AB che ce l'ha tutte e due. In questa figura, infatti, vedete, diciamo, se io sono di gruppo AB e faccio interagire i miei globuli rossi con un siero che sia anti-A o con un siero anti-B, i globuli rossi vengono riconosciuti come strane. Se io sono di gruppo A, faccio interagire con un siero che abbia anticorpi contro A, vengono riconosciuti come strane. Quando invece lo faccio interagire con un siero contro B, invece non vengono riconosciuti come strane. Se io sono di gruppo B, al contrario, il siero anti-A non mi dà nessun problema, quindi quello con gli anticorpi A non mi dà nessun problema, quello con gli anticorpi contro B, invece, mi provoca una reazione. Se io invece sono di gruppo 0, non stimolo nessuna risposta anticorpale, non vengo riconosciuto da nessun anticorpo, quindi né da quelli anti-A né da quelli anti-B. Che cosa vediamo in questa figura? Che quando i globuli rossi interagiscono con gli anticorpi, si ammassano, fanno degli ammassi. Quando invece non vengono riconosciuti dagli anticorpi, non sono liberi, non vengono attaccati e non si ammassano. Quindi, appena entrato in contatto con globuli rossi, che un mio sistema immunitario riconosce come stranei, ad esempio se io sono A contro sangue B, i globuli rossi vengono circondati, agganciati dagli anticorpi, vengono ammassati e scatenano quindi dei trombi nel sangue e provocano un collasso della circolazione che può essere mortale se non trattato immediatamente. Per cui, in questa tabella grande, vediamo riassunti tutti i dati che ci interessano. Allora, i miei fenotipi sono questi. 0, A, B e AB. Gli anticorpi, se io sono di gruppo 0, produco anticorpi sia contro A sia contro B. Se io sono di gruppo A, produco anticorpi contro B. Se io sono di tipo B, produco anticorpi contro A. Se io sono di tipo AB, non produco risposta anticorpale. Per cui, un individuo di gruppo 0 può ricevere sangue soltanto da un altro individuo di gruppo 0, perché è l'unico che non stimola anticorpi. Se gli do il sangue di A, se gli do il sangue di B, o se gli do il sangue di AB, che ce l'ha tutte e due, in tutti e tre i casi vengono agglutinati, ammassati, i globo di tossi e provoca il collasso cardiocircolatorio. Se sono A, posso ricevere da 0 e da A, ma non posso ricevere da B e da AB, in quanto questi hanno il fenotipo B e quindi vengono aggrediti. Se io sono di gruppo B, posso ricevere da 0, che non mi dà risposta immunitaria, posso ricevere da B, ma non da A o AB, in quanto c'è l'antigene A. Se io sono di gruppo AB, posso invece ricevere il sangue da tutti, in quanto il mio sangue non produce anticorpi, il mio sistema immunitario non produce anticorpi, né contro A, né contro B, né tantomeno contro 0, che comunque non dà risposta immunitaria. Quindi AB è il ricevente universale, il gruppo 0 invece è il donatore universale, in quanto ha dei globuli rossi che non scatenano risposta immunitaria, perché la proteina 0 non scatena risposta immunitaria. Adesso andiamo a vedere invece, questi sono i fenotipi e la risposta anticorpale, andiamo a vedere i genotipi. Questo, vabbè, abbiamo già visto. Ecco, i genotipi del sistema B0. Allora, partiamo dal più semplice, il gruppo sanguigno 0. Il gruppo sanguigno 0 ha una proteina, produce un allereo, diciamo, che è recessivo rispetto agli altri due. Quindi, il gruppo sanguigno 0 si può manifestare solo quando sono omozigote recessivo. Come lo indico l'omozigote recessivo? Con le due lettere I piccola, in modo da indicare che è recessivo. Il fenotipo di gruppo sanguigno AB anche è certo. Ogni individuo ha due alleli, quindi se questo è AB, ha ricevuto da un genitore l'allele A e dall'altro genitore l'allele B. Quindi, il suo genotipo potrà essere soltanto IA grande, IB grande. Vedete che si usano le stesse lettere che abbiamo detto nel video precedente, cioè, visto che sono codominanti, devo usare tutte le lettere maiuscole. Uso una lettera di base per i gruppi sanguigni, la lettera di base è la lettera I. E la uso grande quando parlo dei codominanti e la uso piccola quando parlo del recessivo. Se sono il gruppo sanguigno A, invece, posso avere due possibilità. Potrei essere mozigote dominante, IA grande, IA grande, va bene, ma potrei anche essere eterozigote, nel senso potrei avere IA grande e l'allele I piccolo, che è recessivo. Stesso discorso per il gruppo sanguigno B. Potrei essere IB grande, IB grande, oppure potrei essere IB grande, I piccolo, perché IB piccolo è comunque recessivo. Quindi, quando dobbiamo risolvere un problema sui gruppi sanguigni, dobbiamo usare sempre lo stesso metodo, ma tenete conto che esistono tre alleli diversi e che due sono codominanti e uno è recessivo. Ho fatto un altro video in cui, in dettaglio, spiego come risolvere i problemi sui gruppi sanguigni, e qui andiamo molto veloce. Partiamo da questo problema. Un uomo di gruppo B ha un figlio con una donna di gruppo A, eterozigote. Qual è la probabilità che abbiano un figlio che sia di gruppo 0? Allora, qui di certo sappiamo soltanto il genotipo della madre, perché ci dice che è eterozigote. Quindi la madre deve essere per forza IA grande, I piccolo. Del padre non ce lo dice, quindi possiamo avere due casi. Possiamo avere il caso che il padre sia omozigote, per cui avrà un genotipo IB grande, IB grande. O possiamo avere il caso che il padre sia eterozigote, per cui avrà un genotipo IB grande, I piccolo. E quindi dobbiamo fare due quadrati di punnet, quindi dobbiamo fare due problemi diversi. Partiamo dal caso che il padre sia omozigote. Padre, madre, parentali. Il padre è il gruppo B, abbiamo detto omozigote, quindi IB grande, IB grande. La madre è eterozigote, perché ce l'ha detto il problema, quindi è IA grande, I piccolo. Per cui il padre farà gameti tutti uguali IB grande, la madre farà metà gameti IA grande e metà gameti I piccolo. Per cui abbiamo una tabella ridotta in cui abbiamo 100% IB, poi madre potrebbe essere il gamete IA grande e potrebbe essere il gamete I piccolo. Se si incrociano IA grande e IB, il figlio sarà di gruppo AB, perché sarà IB, IA. Se si incrociano invece I piccolo, IB, il figlio sarà di gruppo B, perché sarà IB grande dal padre e il piccolo dalla madre. Quindi in questo caso non ci può essere nessun figlio di gruppo sanguigno 0, ma neanche nessun figlio di gruppo sanguigno A, pur essendo la madre A. Vediamo invece il caso che il padre sia eterozigote. Allora, in questo caso, anche il padre fa due gameti diversi, metà IB grande e metà IB piccolo. Quindi ci viene un quadrato di punnet tipico, con quattro caselle, in cui se si incrocia IB e IA, il figlio sarà AB. Se si incrocia IB e I piccolo, il figlio sarà B. Se si incrocia il gamete A, l'allele A della madre, con l'allele I piccolo, il figlio sarà di gruppo A. Se si incrocia invece l'allele recessivo del padre e l'allele recessivo della madre, quindi un quarto di probabilità, il figlio sarà di gruppo 0. Quindi quando abbiamo un caso di questi, in cui abbiamo un genitore di gruppo B eterozigote, l'altro genitore di gruppo B eterozigote, per due gruppi sanguigni diversi, quindi gruppo A e gruppo B e gruppo A, possiamo avere tutti e quattro i fenotipi nei figli. Quindi un quarto di probabilità che sia AB, un quarto di probabilità che sia A, un quarto di probabilità che sia B e un quarto di probabilità che sia 0. Quindi anche in casi in cui abbiamo dei sistemi più complessi, quindi in questo caso con codominanti e recessivi, quindi sono semplici, si fanno sempre a lezione quella dei gruppi sanguigni, pure nei problemi, si risolve facilmente utilizzando sempre lo stesso metodo che abbiamo impostato. Quindi prima di determinare il fenotipo, poi di determinare il genotipo, formare i gameti con le loro probabilità di formazione e poi fare il quadrato di Punnett e vedere i risultati della fecondazione.